Noi dobbiamo da questo punto di vista imparare, quindi provare più che inseguire quello che è di fronte a una situazione che è continuamente in mutazione, provare ad adeguare gli strumenti di cui disponiamo a quella mutazione. Perché gli strumenti, l'ho detto mille volte, non sono mai dei totem, non sono religione, non sono ideologia, sono strumenti, si valutano in base alla loro utilità, in base alla loro efficacia, invece registro che nel nostro dibattito molto spesso quelli che sono strumenti diventano sostanzialmente dei totem indiscutibili. Ultimo accenno, lo faccio ai colleghi del Movimento 5 Stelle riguardo al tema dell'Ucraina, l'onorevole Scudellacci dice fermatevi, penso che lo debba dire a Putin, mi fa specie che lo dica a noi perché probabilmente questo tradisce una posizione. Cioè vuol dire consentire l'invasione dell'Ucraina, perché se noi ci fermiamo noi consentiamo, adesso le cose vanno chiamate con il loro nome, se noi ci fermiamo noi consentiamo l'invasione dell'Ucraina. Ora io non sono così ipocrita da scambiare una invasione con la parola pace e quindi credo che non si debba consentire l'invasione dell'Ucraina, che non vuol dire non lavorare per un piano di pace o che non lavorare per una soluzione del conflitto, ma pensate davvero che a qualcuno piaccia la guerra, pensate che qualcuno davvero si diverta a stare in questo quadro? No, ma chiaramente la situazione è un tantino più complessa di come la fa certa propaganda, perché si parla di pace, perfetto. Mi si può dire quali sono secondo voi le condizioni per aprire un tavolo di trattative? Concretamente, scendiamo nel tema della pace, perché è un tema che a me appassiona, l'ho già detto in questa tavola, lo ribadisco, cioè voi ritenete ad esempio che per aprire un qualsiasi tavolo di trattativa si debba o non si debba a Monte chiedere alla Russia di cessare le ostilità e ritirare le truppe dal territorio ucraino? Ritenete che si debbano rivedere i conflitti dell'Ucraina? E come? Ritenete che si debbano dare a Mosca i territori che ha occupato e su quali ha celebrato un referendum di autodeterminazione o no? Questo è quello che vorrei sentire se stiamo parlando seriamente di pace, altrimenti quello che si sta facendo è la propaganda sulla pelle di una nazione sovrana, di un popolo libero e del diritto internazionale e questo è irresponsabile. Grazie.